Direttore, direttore, sono l'Arcangelo Gabriele, è piacere, ho il presentimento che nel 2023 ci sia di nuovo la venuta di Gesù, ci dobbiamo organizzare. E' arrivato al momento di... Vi prego, ridoppiamo, che così non si può sentire. E' arrivato il momento di chiamare in nostro aiuto i Re Magi, dovranno raggiungere Tausia, la nuova Betlemme, entro i tempi prestabiliti, altrimenti sarà Befana a rischio. Sento Natale arrivare Sta per nascere Gesù Forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione Le paranoie mi farei, dimmi di sì, dimmi di no Ho un regalo da rifare perché non mi piace più A volte il mondo è banale È banale! La cosa che mi fa incazzare quando mangi sono tu Il panettone di tua zia Di tua zia I Re Magi sono partiti perché ne lo sento già che Presto che nasce Cristo Befana a rischio Scusa se insisto Ma questa notte è quello che preferisco E' l'oro arrivo Senza imprevisto Ti prego amore Quest'anno nebbe premme E' la cometa che brilla fissa La stiamo cercando ma è nebbia vita Ti giuro se ti penso la mia testa suona Ed è banal ristio Io sto distratto e tu sei seria Ognuno tra i pensieri suoi Forse sì, forse no Arriva già Babbo Natale E vado incontro alle rene Rudolf e Cupido La cosa che mi fa incazzare quando non rispondi più Ma poi ti scrivo Buon Natale Buon Natale! I Re Magi sono partiti perché ne lo sento già che Presto che nasce Cristo Befana a rischio Scusa se insisto Ma questa notte è quello che preferisco E' l'oro arrivo Senza imprevisto Ti prego amore Quest'anno nebbe premme E' la cometa che brilla fissa La stiamo cercando ma è nebbia vita Ti giuro se ti penso la mia testa suona E' befana a rischio E' befana a rischio Vorrei Spiegarti quanto mi manca Natale nell'aria Con la prende S.O.S. parte la cassa Befana a rischio Quest'anno nebbe premme E' l'ario d'orsia che suona dritta Scarico il rap e l'ascolto inizia Ti giuro se ti penso la mia testa suona E' befana a rischio E' befana a rischio Ti giuro se ti penso la mia testa suona E' befana a rischio Scusate sono nato un po' prematuro Buone feste da Radio Tauzia e dagli S.O.S. Benvenuti Quali sono i vostri doni? Grazie Mi sarà molto utile Ma per Gesù? Ah tranquillo Lui si arrangia Ma per Gesù La mia testa suona Mi sarà molto utile Mi sarà molto utile Ma per Gesù Mi chiamo Ma per Gesù Mi chiamo Grazie per la visione!